Il comando Richiamo crea entità richiamo associativo per etichettare componenti dell'assieme nello spazio modello. Questi richiami appaiono anche nelle relative finestre dello spazio carta. Le serie associative possono essere guidate da espressioni parametriche e possono essere utilizzate per creare entità completamente parametriche, guidate da una tabella sia in 2D che in 3D. Il modulo Sheet Metal di BricsCAD URA esporta assiemi complessi, che contengono parti in lamiera o componenti. Lo sviluppo appiattito ed il report di riepilogo vengono creati automaticamente per ogni pezzo di lamiera dell'assieme. Per ulteriori informazioni su BricsCAD V18 o per provare gratuitamente il software per